ciao a tutti da ggr studios il nostro canale dedicato alle lezioni recensioni e tutorial sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati rimanendo sempre in zona audifield questa volta ci occupiamo di tnt il voice executor ossia un plugin come abbiamo già visto simile a quello del drum and answer che racchiude all'interno i principali strumenti che vengono utilizzati nelle channel strip vocali in particolar modo abbiamo quindi un gate un compressore un equalizzatore un distorsore uno stereo delay e un limiter potremmo quindi considerarlo in tutti i sensi un multi effetto possiamo ascoltare subito l'arrivo della compressione e leggermente un drive che rende la voce un po più piccola un plugin esclusivamente dedicato a chi non ha dimestichezza con il mix della voce infatti possiamo accedere soltanto ad i preset interni e modificare alcuni parametri come il drive l'input e l'output più s un po' di delay abbiamo anche dei preset dedicati al rap dove la voce viene estremamente compressa e resa più presente rispetto alle classiche voci pop sentiamolo nel mix cos'nava sia flat un lost but maybe it's a mirror the mirror of myself the mirror of myself the mirror of myself the mirror the mirror of myself adatto appunto a chi non ha dimestichezza con il mix delle tracce vocali molto utile a chi appunto lavora nello speeching e quindi ha bisogno di avere un sistema di compressione e equalizzazione già pronta per il lavoro di broadcasting nella sezione special troviamo addirittura degli ottimi effetti da applicare per esempio alle voci o ai cori all'interno dei nostri brani è da considerarsi appunto un multi effetto quindi estremamente utile a chi in fase creativa necessita di ispirazione oppure da applicare anche a tracce che non fanno riferimento alla voce come ad esempio le chitarre o il basso vi consiglio di scaricare la demo e provarlo spero che questa recensione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata verrete a contatto con le mie tracce affronteremo i vostri mix insieme li finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirmi su facebook youtube music off non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto ciao a presto